questi argomenti è quella di un risico, cioè come se le questioni che riguardano la strategia si possano fare a tavolino, cioè se noi che siamo delle eliti illuminate ci sediamo a tavolino e siamo d'accordo e ci vogliamo tanto bene, mettiamo da parte dei contingenti e con questi facciamo le forze armate europee. La realtà non funziona così, anzitutto non contano mai le elite, cioè non conta quello che ha messo, io non sono nemmeno elite, ma non contano nemmeno gli intellettuali e non sono neanche quello, ma non contano le persone che trattano di questi argomenti, ma per carità, contano le persone. Sei una persona che studia e conosce questa realtà. Va benissimo, ma molto più di me conta l'uomo medio, la donna media e ciò che pensano, traduco. Quando si fanno questi discorsi vuol dire non essere mai stati da nessuna parte nel mondo, cioè vuol dire soltanto aver parlato con i propri pari, seduti ad un tavolino ed aver avuto un assenso di massima. Se vogliamo costruire un qualcosa del genere, perché avere delle forze armate che cosa vuol dire? In maniera molto brutale, vuol dire morire. Perché in guerra non è chiarissimo, a volte attraverso i videogiochi, ma si muore. E si muore per qualcun altro soltanto per sentimento. Cioè un lituano che muore per uno spagnolo, ma è lituano quello vero. Non, messo che i lituani siano pronti a farlo, non c'è. Un italiano medio che vuole morire per un finlandese, io non l'ho mai incontrato. Cioè si ha la sensazione che fare le forze armate vuol dire andare a fare operazioni di pace in cui si spara come nei videogiochi e poi quando ci si trova in difficoltà ci si comunica in inglese. La vita reale non è questa. La nazione non si costruisce in questa maniera. È puro sentimento. E spesso il sentimento viene dopo l'imposizione di qualcuno su qualcun altro. Tutte le nazioni nascono così. C'è un nucleo centrale che si impone agli altri. Sulle forze armate europee chi le comanda? Ma chi le comanda veramente? Chi ci sta essere comandato da un'altra nazionalità davanti a persone che ti sparano non per fare la parata. Per esempio per i francesi è tutto molto chiaro. Lo pagano i tedeschi e lo comandano loro. Loro hanno anche la bomba atomica ma per gli altri un po' meno. Aggiungo e chiudo. E gli americani? Punto interrogativo. Non è che non esistono più. Gli americani non vogliono in nessuna maniera un esercito europeo. Traduciamola ancora a meno che non si voglia fare una forma cosmetica in cui si lo mandiamo a fare le parate, gli diamo la bandierina e dopo quando si fa la guerra però facciamo le cose serie, cioè scompare. Altrimenti bisogna fare la guerra agli americani. Se si volessero fare forze armate europee reali bisogna fare la guerra letteralmente agli americani e dunque in bocca al lupo. Se vogliamo dirci con bellissimo proposito va bene. Il fatto che gli americani non lo vogliono in nessun modo e che si siano però sottratti di fatto a una protezione dell'Europa e voglio coinvolgere in questa discussione anche la nostra europarlamentare e l'onorevole Del Mastro. Non può invece fare...